Sono Alessandro Ricciuti di Ali Animalo Italia. Noi chiediamo che il prossimo Parlamento dia attuazione al nuovo terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, attraverso una migliore tutela legale e istituzionale degli animali. È necessario riformare il codice penale prevedendo nuove sanzioni più efficaci contro il maltrattamento e gli altri reati a danno degli animali, ma anche aumentare il personale dedicato e formato delle forze di polizia e realizzare e sostenere delle strutture di accoglienza degli animali salvati. Necessario è poi l'inserimento degli animali nel codice civile affinché siano riconosciuti come esseri senzienti e non più come cose. Altrettanto importante è l'istituzione di un garante nazionale dei diritti degli animali e di un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che unifichi e coordini le competenze ora divise tra più ministeri. Crediamo che per gli animali di affezione sia arrivato il momento di vietare la pubblicizzazione di annunci online e la vendita nei negozi. In linea con quelle che sono le legislazioni di altri paesi europei, ci aspettiamo che il nuovo governo dia pieno sostegno alla proposta di nomina di un commissario europeo per il benessere animale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!